Grazie a tutti. Buongiorno, io sono Guido Caldarelli, vengo da IMT, questa nuova istituzione fondata una decina di anni fa, che è una scuola di dottorato. Inizierò con una storia che vi voglio raccontare oggi. Come immaginate dal titolo è una storia complessa. I protagonisti di questa storia sono bambini, telefoni cellulari e fochi e merluzzi. Se riuscirò a convincervi che tutti questi protagonisti fanno parte della stessa storia, allora vi avrò spiegato sufficientemente bene l'argomento delle reti complesse. Iniziamo con i primi protagonisti, che sono i bambini. Questa è la mia classe delle medie. Potete riconoscermi, sono un po' cambiato, ma dovreste riuscire a trovarmi. In questa foto è una foto dei ruggenti anni 70, vedete l'abbigliamento, si possono dire parecchie cose. Anche oggi si fanno le foto all'interno delle classi, delle scuole, si fanno le foto anche per le squadre di calcio. C'è sempre una struttura che viene conservata in tutte queste foto. Ed è il fatto che i ragazzi più alti stanno dietro, quelli un po' più bassini davanti. In questo caso neanche tanto, perché eravamo tutti più o meno della stessa altezza in questa classe. Però questo non c'è niente di strano. Se noi andiamo a misurare quello che succede, allora troviamo che all'interno di una classe scolastica, come questa qui, ci saranno dei bambini, misuriamo quanti sono alti un metro e mezzo, che è più o meno l'altezza che ci si aspetta per un bambino che entra in prima media. La maggior parte avrà appunto questa altezza di un metro e mezzo. Ci saranno delle code, ci saranno dei bambini che sono un po' più alti, dei bambini che sono un po' più bassi, ma un metro e quaranta, un metro e sessanta, stiamo parlando di differenze di decine di centimetri, non più di così. E questo è quello che succedeva. Io sono il terzo nella prima fila da sinistra. Però questa idea, come abbiamo sentito nel primo talk che è aperto questa mattina, di linearità, qui naturalmente non è lineare questa distribuzione, questa è una distribuzione a campana, una gaussiana, però questa idea che ci sia un valore medio che rappresenta un po' tutti e che ci siano piccole deviazioni da questo valore medio, come la linearità è abbastanza insita nella nostra mente. Noi oramai siamo inclini a pensare che questo succeda sempre. E per validissimi motivi questo succede davvero molto spesso. Però quello che succede è che non è sempre, sempre vero. Prendiamo un altro esempio. Questa è New York, è la borsa valori, un giorno qualunque, perché da sempre lì si comprano e vendono azioni. Se noi applicassimo lo stesso ragionamento, la stessa linea di pensiero, potremmo cominciare a pensare che qualcuno venderà o comprerà una decina di azioni, qualcuno cinque, qualcuno quindici. Non è così. Le transazioni che avvengono lì sono transazioni di poche decine di azioni, in un caso, ma in altri casi di migliaia e migliaia di dollari. E questo succede perché, come probabilmente già avete immaginato, già sapete, la distribuzione delle ricchezze, il reddito che la gente ha, non è distribuito secondo quella curva che abbiamo visto prima. Ma è distribuito in maniera molto diversa. Ci sono tante persone che hanno un reddito sufficiente per vivere, e poi ci sono altre persone, e sono molto poche, che hanno tantissimi soldi come Mr. Bill Gates alla fine di questa curva. In realtà questo è solo un'immagine così, tanto per far capire di che cosa stiamo parlando. Se dovessimo mettere davvero il signor Bill Gates in questa distribuzione sarebbe molto in fondo, probabilmente fuori dal teatro. E allora, questa legge è una legge fra l'altro universale, è stata scoperta da un italiano, da Vilfredo Pareto, nel 1890, e Rotti, che come molti colleghi italiani lavorava all'estero, a Lausanne, e lui ha scoperto appunto che la distribuzione del reddito non obbedisce a quello che uno si aspetta, che ci sono delle persone che guadagnano più o meno un certo valore, poi ci sono delle code con qualcuno che guadagna un po' di meno, e altri solo un po' di più. No, no, le differenze sono molto profonde. Passiamo al secondo protagonista, i telefoni cellulari. Questo succede molto spesso in realtà, specie nei sistemi tecnologici. Se voi considerate, per esempio, una rete di chiamate, in cui, questa è solo una piccola parte di una rete di telefonia mobile, in cui ogni pallino è un numero e una linea che unisce due pallini e una chiamata fra questi due numeri, vedete che qualitativamente è la stessa cosa. Molti telefoni fanno poche chiamate, alcuni ne fanno tantissime, per esempio quello al centro, o quello un po' più in basso a destra. Sappiamo anche chi è questo che fa molte chiamate, è quello che viaggia con noi in treno di solito, se lo abbiamo davanti, non smette mai. Qui l'abbiamo finalmente acchiappato, lo visualizziamo, vediamo che sta lì. Il nostro telefono però adesso è uno smartphone, è anche un piccolo computer, magari andiamo su Facebook, magari twittiamo, in questo momento magari voi lo state facendo, e se andiamo a vedere una mappa di internet, dove qui questa volta i pallini sono degli autonomous systems, sono degli insiemi di computer, e una linea fra due palline, che non si vedono da quante sono e da quanto sono piccole, è un collegamento che li unisce, su cui viaggia per esempio un e-mail, o un pezzo di un e-mail, allora vediamo che anche in questo caso ci sono dei nodi, delle palline, dei vertici, in cui ci sono tantissimi collegamenti, lì a destra o lì in alto, quasi la metà, un terzo del collegamento totale è dato da questi piccoli nodi, questi hub, che in realtà collegano poi tutto il sistema. e questo è una caratteristica non solo di internet, ma di tutti i servizi che sono definiti su internet, se voi guardate le pagine web, che sono dei documenti creati o conservati all'interno di hard disk, dentro questi computer, anche per loro troveremo una struttura di questo tipo, ci saranno pagine che hanno molti link entranti, molti che le puntano, come Google, e altre pagine che non ne hanno per niente, e questo non succede solo per il web, ma succede anche per tutti gli altri sistemi, queste sono delle piccole mappe fatte nel mio intorno di Facebook e di Twitter, in cui io sono al centro e ho dei contatti, ma dei miei vicini alcuni ne hanno pochi e altri ne hanno tantissimi. Questo insomma succede sempre. Succede sempre e succede non perché sia una deriva del mondo moderno che ha creato una tecnologia un po' strana, ma è sempre successo, è anche una caratteristica, se volete, delle scienze sociali. Questa è una mappa, una mappa che parla delle famiglie fiorentine nel Rinascimento. Le famiglie sono i vertici di questa mappa e una linea che unisce due famiglie è un matrimonio, quindi un modo per allearsi invece di combattersi sempre. Allora, che cosa si impara da questa rete? Che ci sono delle famiglie che hanno capito che essere molto connesse è un vantaggio, che essere molto centrali, quindi avere una distanza che è piccola rispetto a tutte le altre può essere conveniente, indovinate chi sono, sono i medici. Quindi questa famiglia, pur non conoscendo la teoria delle reti, in qualche modo intuitivamente aveva capito che è più conveniente essere in certe posizioni in una struttura sociale piuttosto che in altre. O essere isolati come i Pucci, che è l'estremo opposto a quello dei medici, non è una cosa particolarmente buona per la carriera. Quindi questa cosa succede sempre, succede da molto tempo e le differenze di cui parliamo sono differenze davvero importanti. Se noi andiamo a rivedere queste due curve che descrivono questi due tipi di comportamento, quello della curva campana e quello invece dei redditi, delle amicizie, dell'importanza sociale, vediamo che si parla di differenze reali. Quando noi vediamo una distribuzione di altezze, come quelle dei bambini, uno sarà alto un metro e mezzo, qualcuno un metro e sessanta, qualcuno un metro e quaranta, ma nessuno è alto due millimetri, nessuno è alto venti chilometri. Questi mostri non esistono, per fortuna. Ma quando noi parliamo dei redditi, quando noi parliamo delle connessioni che ha un autonomo system, quando noi parliamo dei link che ricevono una pagina web, allora è molto differente, allora ci sono dieci, cento, mille, diecimila volte di più. Questo è quello che succede nelle code. Ci sono delle persone che hanno tantissimi contatti, tantissimi amici. Questo che cosa vuol dire? Che cosa ci fa capire? Che cosa poi studiano le persone? Ci fa capire che queste reti, che si chiamano invarianti di scala, sono state anche chiamate, nella traduzione di un libro di Mark Buchanan, reti aristocratiche, queste reti sono più fragili di quello che uno si aspetta. Se un sito, un super connettore, quello che ha tanti contatti, va giù, crolla, questo può far andare giù l'intero sistema o una parte consistente di esso, un mezzo, un terzo. Su questa rete, una rete di questo tipo, chi sta al centro è in qualche modo avvantaggiato. Però può essere un problema. Se noi pensiamo che tutti noi vediamo 4-5 persone al giorno, possiamo immaginare un modello di epidemiologia che ci dice come funziona l'influenza, come si diffonde, e arriviamo a certe conclusioni. Queste conclusioni sono sbagliate, perché non è vero che ognuno di noi vede 4-5 persone al giorno. Se lavorate all'aeroporto di Hitro o a JFK, o a un grandissimo hub, magari ne vedete 10.000 in un giorno. Basta che voi siete malati per propagare in tutto il mondo una pandemia. Basta una persona sola su una rete di questo tipo. Quindi c'è una fragilità intrinseca in questi sistemi. Questa fragilità alle volte si moltiplica, perché le reti possono essere interconnesse. Quindi la fragilità di una si moltiplica con la fragilità dell'altra, e così via. E questo succede particolarmente nei sistemi economici e finanziari, che è la cosa di cui io mi occupo a IMT. Vi faccio un piccolo esempio. Questa è una mappa vecchia, una mappa fatta nel 2005. è una rete di comproprietà, chi possiede chi, alla Borsa di Milano, nel 1993. Quindi stiamo parlando di parecchio tempo fa, una ventina di anni fa. Possiamo fare molti discorsi, ma è semplice. Voi la guardate e capite chi è più importante in questo sistema. Chi sono gli hub? Sono Mediobanca e Generali. Quindi subito sapete quali sono i nodi fragili di questo sistema. I nodi che, se falliscono, fanno fallire anche le società in cui partecipano, per esempio. Questo è solo uno degli infiniti, o quasi infiniti layer o sistemi, in cui potete immaginare di guardare il mondo economico e finanziario. Potete, per esempio, andare a vedere alla rete dei prestiti fra le banche. Trovate una struttura molto simile. La cosa che è particolarmente importante in questa rete di prestiti fra banche è che è una rete che è stata creata per ovviare ad un'altra fragilità. Il problema è quello della liquidità. Se le persone sanno che una banca sta per fallire, allora vanno di corsa a prelevare dal proprio conto corrente i soldi, si mettono in fila e cercano di portare a casa quanto più denaro possibile per non essere coinvolti nel fallimento della banca. Naturalmente, se tutti i correntisti si mettono in fila, non c'è in un giorno qualsiasi la liquidità per tutti. Questo è un esempio delle varie possibili crisi di liquidità che può avere una banca. Poi ce ne sono più complicati nel mercato, in vari altri mercati. Però per ovviare a questo la Banca Centrale Europea ha per esempio una delle tante misure è quella di assicurare che nel denaro contante sia depositato sempre presso la banca del paese in cui queste banche operano, nel nostro caso la Banca d'Italia. Quindi, il 2% del fatturato va depositato ogni mese, è una riserva liquida a cui le banche possono attingere in caso di necessità. Però, quello che succede è che quando arriva il giorno di depositare questi soldi le banche magari non ce l'hanno, le hanno investiti, li devono chiedere in prestito e si origina un mercato, un mercato di prestiti fra le banche che naturalmente ha anche altre funzioni oltre a questo ma insomma in cui operano per questa direttiva. E la rete che si forma è ancora una volta una rete fragile. Ci sono alcune banche che sono al centro che hanno la più parte dei collegamenti e molte altre banche invece fanno poche transazioni, sono alla periferia. Quindi, se le banche centrali hanno un problema e non possono intervenire in questo mercato, questa che dovrebbe essere una rete di protezione non protegge assolutamente niente, quindi è fragile essa stessa. Quindi, una richiesta di irrobustire il sistema ha creato una nuova fragilità e queste cose succedono continuamente nei sistemi economici e finanziari, sono anche un po' alla base della crisi che stiamo vivendo in questo periodo. L'ultimo protagonista, le foche che è i merluzzi. Allora, che cosa si può fare per controllare queste reti complesse, che cosa si può fare per studiarle e per capirle? Vi racconto l'ultimo pezzo di questa storia che è un esempio che viene da un fatto realmente successo negli anni 70 in Canada. Questa figura che vedete sulla destra molto complicata, piena di linee, è una rete, una rete ecologica, una rete alimentare, sono i rapporti di predazione chi mangia chi nell'Atlantico in cui ci sono varie specie che vivono nel mare, ci sono i merluzzi che vengono pescati e sono molto cari, quindi vengono venduti molto bene dai pescatori, i predatori di questi merluzzi, le foche, per esempio, e non ci sono gli uomini che sono accaniti i predatori di questo pesce che viene venduto in tutto il mondo. Negli anni 70 per vari motivi non ancora compresi, ma fra cui anche la pesca intensiva, il numero di questi merluzzi cominciò a scendere in maniera molto forte, mettendo a rischio la vita delle persone che vivevano di pesca, dei pescatori. Allora il governo decise di correre ai ripari, di trovare un modo per cercare di incrementare la popolazione. Allora, qual è la cosa semplice che uno pensa? Beh, avranno dei predatori oltre a noi, le foche, se noi uccidiamo questi predatori, beh, ci saranno ancora più merluzzi, quindi diamo l'ordine di uccidere poi anche in maniera abbastanza cruenta le foche e ci sarà più pesce per noi. Non necessariamente questo è vero, il sistema lo vedete come complesso, non è neanche lineare la relazione che lega la predazione alla popolazione delle specie. Allora, quello che successe, che poi è stato capito, quello che successe, insomma, si vide subito, i merluzzi diminuirono ancora di più dopo che le foche vennero quasi sterminate. Perché questo? Perché le foche erano predatrici anche dei competitori dei merluzzi, quindi questi competitori che non erano buoni da mangiare, nessuno pescava, si trovarono senza predatori e con i propri competitori merluzzi che venivano invece pescati intensivamente dagli esseri umani e quindi occuparono tutta la nicchia ecologica e quindi non necessariamente fare un'azione che sembra ragionevole e razionale porta al risultato atteso. Questo vale per tutte le reti complesse e quindi le conclusioni che noi possiamo trarre da tutta questa storia sono che il modo in cui siamo collegati incide in quello che ci può capitare. Le persone che sono più centrali sono più influenti e rendono però il sistema anche più fragile. Quindi essere molto collegati alle volte può essere un bene e alle volte no, non lo è per niente. Nel caso dei sistemi finanziari noi possiamo avere delle istituzioni che sono collegate fra di loro a un certo livello ed assicurarci che a questo livello tutto vada bene però le stesse istituzioni vivono anche in altri livelli magari non regolamentati lì falliscono e questa cosa si propaga dappertutto. Quindi qual è la cosa che noi dobbiamo imparare? Dobbiamo imparare che se vogliamo controllare i sistemi complessi dobbiamo cominciare a guardare chi è il più centrale cominciare a guardare quante connessioni ha e in questo modo forse riusciremo a fare una fine differente da quella dei merluzzi. Grazie per la vostra attenzione. Applausi. Applausi. Grazie.